Il confine è quello di portare sul territorio quelli che sono i contenuti tecnici per aiutare a supportare lo sviluppo delle nostre imprese del territorio. In particolare oggi portiamo diverse competenze di natura squisitamente bancaria, con la convenzione recentemente sottoscritta con il credito valtellinese, l'ingegner Marco Belardi che è il presidente della neocostituita Commissione Tecnica 519 che gestirà e monitorerà tutte le tematiche della 4.0 e il nostro dipartimento che aiuta a fare avere tutti i contributi alle PMI che sono impegnate nell'investire in importanti risorse sia per macchinari, impianti e attrezzature che per logistica, che per risorse interne. Oggi ci sono diversi strumenti sia regionali che nazionali che proprio sono fatti per sostenere lo sviluppo delle PMI. Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, credito di imposte, bonus e scali. Questo è il nostro core business da qui a tutto l'anno prossimo.